Nella giornata di ieri i carabinieri della tenenza di Isola di Caporizzuto hanno sottoposto a controllo di polizia MG, 23enne disoccupato con precedenti di polizia, mentre stava percorrendo a piedi le vie del centro isolitano. Alla vista dei militari, il giovane, senza alcun plausibile motivo, si è immediatamente dato alla fuga, venendo raggiunto al termine di un breve inseguimento. Durante il controllo, nonostante fosse stato apparentemente bloccato, MG è riuscito prima di vincolarsi e allontanandosi a gettare per terra una busta di plastica trasparente che conteneva 37 dosi preconfessionate di marijuana a 21 peso di 35 grammi, poi successivamente è stato rintracciato e fermato in una vicina strada del centro cittadino. Il fuggitivo è stato quindi condotto in caserma per la prosecuzione delle attività, al termine delle quali i militari lo hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale, conducendolo su disposizione del pubblico ministero di turno il dottor Pasquale Festa, verso la sua dimora il regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione di oggi del processo corrito direttissimo. Al termine dell'attività durante la quale né gli operanti né l'arrestato hanno portato lesioni, la droga rinvenuta è stata sequestrata e verrà sottoposta prossimamente alle previste analisi qualitative prima della sua distruzione.